Perché non mi raccontate un po' quello che vi sta succedendo? Circa due mesi fa abbiamo incominciato a vedere Daniel che dormiva, ma con gli occhi aperti cercava di parlare, ma il suo corpo era paralizzato. Daniel, questa si chiama paralisi del sonno. La tua mente ti dice che c'è qualcosa in camera. Ma è tutto qui dentro, tesoro. È la nostra immaginazione. Ma non è stato il solo. È successo a tutti noi. Dormirete qui con i vostri genitori, così vi sentirete al sicuro. Noi controlleremo tutto quello che fate mentre dormite. C'era qualcosa. Nella stanza con noi. E non stavo affatto sognando. Viene solo quando dormo dalle tenebre. L'incubo. Un demone che esiste da quando l'uomo ha imparato a sognare. Paralizza il bambino. E poi lo schiaccia. Mi sa se stessa tornerà. Mi sa se perlombra verrà. Fa qualcosa! Ma hai detto che ci avresti aiutato! No! Demonio! No! No! Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!